Dopo due minuti del secondo tempo Giannini stende Baggio in aria, Rodomonti fischia il penalty, per il numero 10 il rosso-blu il calcio dal dischetto non è più un incubo. Passano otto minuti e Fontolan confeziona... Fischia l'arbitro, parte, il destro ed è gol, ha pareggiato il Bologna 1-1. ...e Anderson si scatenano e infilano ripetutamente di Fusco, contro un Napoli ormai allo sbando c'è spazio per i prezzi... ...Napoli taglia la tela che sbaglia tutte le uscite possibili, poi sbaglia anche un rigore, ora Baggio, solo davanti al portiere Baggio... ...ed è 3-1. Due gol già quest'oggi per Baggio, fischia l'arbitro, parte, Roby Baggio, il destro ed è gol, ancora, stesso... Due gol già quest'oggi per Baggio, fischia l'arbitro, parte, Roby Baggio, il destro ed è gol, ancora, stesso...